Il cammeo, un monile antico di grande charme, è una delle creazioni più affascinanti e atemporali nell'arte orafo. Questo gioiello scolpito, con la sua storia millenaria e il design intrinseco, continua a catturare l'immaginazione di appassionati di gioielli e collezionisti di tutto il mondo. In questo articolo, esploreremo l'origine del cammeo, il processo di lavorazione, le tipologie più popolari e il suo valore culturale, fornendo un'analisi approfondita che delizierà ogni amante della gioielleria. Il cammeo ha una radice storica profonda, risalente all'antica Grecia e Roma, dove era considerato un simbolo di ricchezza e status sociale. Le prime versioni di cammei erano realizzate principalmente in conchiglia e pietre semipreziose. Nel corso dei secoli, il cammeo si diffuse in tutto il mondo, diventando un elemento essenziale nella gioielleria e nella decorazione di oggetti d'arte. Il cammeo è una gemma scolpita, dove il disegno è in rilievo rispetto al fondo piatto della pietra. Tradizionalmente, l'artigiano incide manualmente il disegno sulla superficie della gemma, impiegando strumenti di precisione e abilità artistica. I materiali preferiti per i cammei includono agata, corallo, conchiglia, onice e diaspro. Il processo richiede tempo e pazienza, ma il risultato è un gioiello unico e affascinante, degno di essere tramandato di generazione in generazione. Esistono diverse tipologie di cammei, ognuna con il proprio stile e significato unico. Alcune delle varianti più popolari includono. Cammeo con figura femminile, raffigurante una figura femminile, spesso associata a dèe o muse dell'antichità, questo cammeo evoca un senso di grazia e femminilità. Cammeo con figura maschile, con immagini di eroi mitologici o imperatori, questo cammeo porta con sé un'aura di maestosità e potere. Cammeo a doppia faccia, scolpito su entrambi i lati, questo cammeo offre versatilità e la possibilità di essere indossato in modi diversi. Cammeo paesaggistico, questo tipo di cammeo rappresenta scenari naturali, come paesaggi, fiori o animali, creando un senso di connessione con la natura. Oltre al suo valore estetico, il cammeo è un tesoro culturale. Le raffigurazioni mitologiche e storiche presenti nei cammei ci offrono un'opportunità per conoscere il passato e scoprire storie di civiltà antiche. Inoltre, il cammeo è stato un oggetto di grande interesse per gli storici e gli archeologi, fornendo indizi preziosi sulle antiche tecniche di scultura e sulle preferenze artistiche del passato. In conclusione, il cammeo è un monile antico di grande charme, che continua a essere amato e apprezzato per la sua bellezza intrinseca e il suo significato culturale. Ogni cammeo è un pezzo unico, un capolavoro realizzato con maestria e dedizione. La sua storia millenaria e la sua rilevanza artistica continuano a renderlo un oggetto di desiderio e un elemento imprescindibile nella gioielleria di classe. Se cercate un gioiello che racconti una storia e incanti lo sguardo, il cammeo è la scelta ideale.